Buongiorno a tutti, oggi è il 9 febbraio del 2016, è mattina, sono le 8.30 circa e quest'oggi, oggi pomeriggio, intorno a luna, credo, appena dopo pranzo mi sottoporrò alla famosa PRK, cioè alla chirurgia laser per la correzione della miopia e niente, volevo semplicemente condividere l'esperienza perché ho visto che non ci sono tantissimi filmati online in cui la gente racconta quantomeno in italiano l'esperienza e voglio documentare un po' quello che mi succederà quindi questa è l'ultima mia testimonianza con gli occhiali addosso io ho un bel 2.75 sull'occhio sinistro e 2.25-2.50 sull'occhio destro e boh, qualcosa di astigmatismo molto molto irrilevante e niente, mi dicono da tempo che con il mio difetto l'intervento laser sarebbe risolutivo e neanche particolarmente problematico e invasivo oggi finalmente mi sono deciso, cioè in queste settimane mi sono deciso ho fatto una visita di controllo per valutare la mia situazione dal punto di vista di un eventuale intervento e ho avuto parere positivo e quindi niente, ho prenotato in clinica l'appuntamento appunto per fare il laser vado oggi, qui davanti a me ho per adesso i, come vedete, qui ci sono gli esiti della mia visita cioè sostanzialmente tutti i vari parametri dei due occhi, pressione, dimensione, apertura della pupilla e via dicendo e qua trovate invece i vari colliri che dovrò mettere sono 4 colliri, in più ci sono anche delle salviettine umettate, disinfettanti per l'occhio e la ricetta appunto medica in cui si spiega come prendere, come assumere questi colliri basta, vediamo cosa succede e quindi sono proprio curioso, non vedo l'ora metto gli occhiali da quando ho, penso mi ricordo che era la fine della prima media quindi ero tra gli 11 e i 12 anni e adesso ne ho 36 e mezzo quindi potete capire, cioè non mi ricordo bene com'è il mondo visto con i propri occhi senza una lente e quindi sarà per me un'esperienza vediamo un attimo cosa succede vi aggiorno, farò un filmato ogni giorno, ogni mezza giornata anche per vedere appunto il decorso e far vedere se starò bene, se starò male grazie, alla prossima